Allora, benvenuto professore, grazie per essere con noi. Dunque, lei oggi è stato ricevuto in udienza dal Santo Padre. Come è andato l'incontro e quali sono i temi che sono emersi? Ma come è andato? C'è un tal calore, una tal confidenzialità, oltre che intelligenza, che è andato certamente bene. E abbiamo parlato delle cose che succedono al mondo. E quindi non di belle cose, problemi delle guerre, delle tensioni. E quindi Ucraina e Mediterranea sono stati un po' i temi più trattati nel nostro discorso. E poi anche dell'Africa in genere. E a proposito della guerra in Ucraina, quale secondo lei è e potrebbe essere il ruolo del Papa, ma anche della Santa Sede per il processo di pace? Un ruolo complicato perché c'è veramente ormai questa rottura del mondo. I politologi dicono West contro tutti, o il grande West contro tutti gli altri. E cioè la tensione è diventata a blocchi. E proprio mi fa ritornare la definizione del Papa della guerra mondiale a pezzi. Cioè è un pezzo, ma è mondiale. È diventata ancora più mondiale. Quindi io penso che debba essere risolta un altissimo verdice. E la Santa Sede ha fatto tanto in questo periodo, ma ancora i due grandi giganti del mondo non si sono incontrati. E quindi l'auspicio e l'azione della Santa Sede non hanno avuto finora esito. Speriamo in futuro, perché la guerra sta arrivando già al primo anno. Le vittime sono innumerevoli e i danni tragici. Ma soprattutto si è creato un clima di tale odio, di tale tensione, che sarà più facile la ricostruzione materiale che non la ricomposizione morale, etica di tutta quella zona. Professore, l'ho appena ricordato lei che tra pochi giorni sarà un anno dall'inizio della guerra. Ecco, finora nessuno sembra aver mostrato la capacità o la volontà di mettervi fine. Né i diretti protagonisti, i diretti contendenti, né gli alleati. Come arrivare alla pace o almeno a una tregua che possa definirsi duratura? Vede, il tragico di questa guerra è che il 25 febbraio, il giorno dopo, io dico solo i cinesi e i americani insieme possono farla finire. Ecco, poi è passato quasi un anno e debbo dare la stessa risposta. Perché il fronte è sostanzialmente fermo. Ognuna delle due parti pensa di vincere e quindi di distruggere l'altra parte. Però è come la guerra di trincea. A questo punto deve essere molto chiaro che il ricorso alle due grandi potenze è assolutamente indispensabile. Ovviamente è chiaro che anche Russia e Ucraina hanno bisogno di avvicinamenti, ma la spinta non può che venire dal presidente cinese e dal presidente americano. Ed è questo il compito. Certamente in un mondo che dialoga, è chiaro che il compito della Santa Sede è importantissimo. Nel senso che ha questa apertura da un lato e dall'altro. Però devono dialogare i due grandi paesi. E professore, ampliando un po' la riflessione, secondo lei perché oggi è così difficile parlare di negoziato e soprattutto procedere verso il negoziato? E volevo anche chiederle, in questo scenario, quale ruolo può avere l'Europa? Ma è diventato difficile perché è anni e anni che gli organismi internazionali hanno perduto potere. Ma lei ha visto che l'ONU in questa controversia ha avuto un ruolo solo marginale o inesistente, ma non per colpa del segretario generale, del presidente, ma proprio perché ormai l'ONU è diventato il Consiglio di Sicurezza, cioè è diventato le grandi potenze, è diventato il diritto di veto. E in questa situazione anche l'Unione Europea ha perso, ha perso, no, non ha mai avuto in questo senso, un ruolo internazionale, perché per averlo forte, certamente è stato importantissimo l'Unione Europea come esempio, un esempio di coesione, di pace, di costruzione di un mercato comune, ma dal punto di vista della politica estera o anche militare, usiamo questa parola, non esiste l'Europa. E quindi non esistendo, essendo rimasta, se noi pensiamo a tutti i conflitti passati, era divisa in Iraq, era divisa in Libia, allora di fronte a una non costruzione di un'Europa di politica estera unita, il potere è nulla, eppure la via ci sarebbe. Ormai abbiamo, chiaramente, negli ultimi anni l'Europa è stata gestita con un bilanciamento fra il potere economico tedesco e le prerogative di politica estera francese, che sono il diritto di veto alle Nazioni Unite e che sono l'arma nucleare. Chiaramente, se la Francia, se la Francia mettesse questo a servizio dell'Unione Europea, crescerebbe la Francia e crescerebbe l'Europa. E la Francia deve capire che questa guerra ha cambiato un altro aspetto dell'Europa, cioè il riarmo tedesco. Cosa importantissima, era nelle cose che avvenisse, ma pensate bene che per 70 anni si sono posti sostanzialmente tutti i partiti tedeschi e in un giorno lo hanno proposto e approvato tutti i partiti tedeschi quasi. Ecco, allora queste cose devono trasformare anche il senso politico e ridare all'Europa un'unità, non perché diventi il terzo impero, tendiamoci, ma perché abbia almeno la possibilità di arbitrare con autorità e soprattutto di assicurare ai propri cittadini una sicurezza regionale. Cioè, vi sembra logico che la Sardegna è più vicina alla Libia che all'Italia e in Libia comandano la Turchia e la Russia. Allora, noi dobbiamo garantire questo minimo di sicurezza europea. Io ho, tra l'altro, questa specie di fissazione sul Mediterraneo che dobbiamo riportare a essere un mare di pace e si può. Quando c'era l'impero ottobano, non nei secoli delle crociate, ma c'era più frequentazione. C'erano decine di migliaia di italiani e di francesi che vivevano a sud. Adesso non c'è più nulla, non c'è più nulla. Allora, non lo possiamo rifare, questa unità, con i pescatori. La dobbiamo fare con i ragazzi, con gli studenti. Dobbiamo fare 30 università miste, paritarie. Quando dico miste paritarie, voglio dire con una sede a nord e una sede a sud. Che so io, Bari, Tunisi, Barcellona, Rabatta, Atene, Cairo. Con lo stesso numero di studenti del nord e lo stesso numero di studenti del sud. Stesso numero di professori del nord e stesso numero di professori del sud. Due anni di studi al nord e due anni di studi al sud. E nei primi anni cominciare con le materie tecniche, evitare i punti di... Quando noi avremo 500.000 ragazzi che hanno studiato assieme, la pace del Mediterraneo è fatta. Allora, le migrazioni, questi problemi vengono presentati in modo attivo. Certo, ci vogliono 20 anni. E il dramma è che la politica, da sempre, ma oggi in particolare, va da tre mesi, non da vent'anni. Però ne ho parlato con la Presidente della Commissione Europea tre settimane fa, qui a Roma, quando è stato ricordato il Presidente del Parlamento. Comincia a esserci un accordo generale. Ma se noi facciamo queste cose, allora l'Europa si garantisce con la politica estera con un minimo di difesa e dà un grande messaggio di apertura coi vicinati. Questa è la mia idea di Europa. La guerra, tornando anche al discorso della guerra in Ucraina, sta aggravando le conseguenze anche dei conflitti in Africa, provocando soprattutto, in particolare, le conseguenze sulla produzione e sulla distribuzione del cibo. In Africa, Papa Francesco si recherà alla fine del mese. Sarà prima nella Repubblica Democratica del Congo e poi in Sud Sudan. Il Congo, lo ricordiamo, è stato a teatro di gravissimi attacchi negli ultimi giorni. Dunque, in questo contesto, in questo frangente storico, a suo giudizio, che significato ha questo nuovo viaggio del Papa? La prima osservazione è che sceglie sempre i paesi più difficili. Se va lì vuol dire che è quasi l'impossibile, perché lei ha detto che l'Ucraina ha aggravato l'aspetto alimentare, eccetera. Purtroppo l'aspetto di convivenza civile è parecchio tempo che si sta aggravando, è una decadenza continua. E noi abbiamo, voi siete abbastanza giovani, anzi troppo giovani per questo, ma la mia generazione ha esultato per la indipendenza, per la democrazia dei paesi africani. E poi ad agio ad agio questa democrazia si è insecchita e i leader eletti democraticamente si sono trasformati in leader autoritari che non vogliono più andare via. Quindi la situazione politica africana è molto grande. Nello stesso tempo alcune radici, non chiamiamolo neocolonialismo, però di un paternalismo politico sono rimasti. E oggi queste non sono più accettate. Quindi si stanno moltiplicando ovunque le tensioni. e poi naturalmente l'Africa come il solito è oggetto di attenzione, perché 55 paesi frammentata con immense ricchezze potenziali, una situazione disastrosa politicamente. È chiaro che da un lato ci sono i cinesi, dall'altro lato francesi, americani. E quindi questo viaggio del Papa è un messaggio in due delle 4-5 aree più disastrate dell'Africa. E io spero che almeno sia un messaggio di convivenza, anche se politicamente sarà molto difficile avere un cambiamento rapido, proprio perché bisogna cambiare le radici, il tutto. Bisogna aiutare l'Africa perché ci sono delle fermentazioni. In Africa delle novità non sono mica male. Ci sono delle nuove organizzazioni economiche, i giovani che si mettono assieme. Cioè c'è una vivacità in alcuni porti dell'Africa che noi dovremmo essere molto attenti a aiutare e moltiplicare. E proprio allacciandomi a questo e anche ricordando un editoriale che lei ha scritto per Il Messaggero in cui auspicava quello a cui accennava prima, cioè di una collaborazione a livello europeo per ripartire proprio dai giovani e dalla cultura. Quindi questo progetto, chiamiamolo anche questo sogno forse, è valido per l'Africa, per il suo sviluppo? È moltissimo. Ripeto, prima ho parlato specificamente del Mediterraneo, ma è un modello poiché si può evidentemente espandere. Io dico e ripeto, solo oggi un tempo si potevano mettere assieme i pescatori o i piccoli commercianti. Oggi, come l'Erasmus, è stato utile per l'Europa, qui bisogna fare di più, perché bisogna creare anche le istituzioni nuove in cui collaborano. Ed è possibile, ma pensate quanti, ho fatto i conti, quante migliaia di professori dei paesi della sfonda sud del Mediterraneo, di Algeria, di Tunisia, eccetera, insegnano nelle varie università del mondo. Cioè, se noi non raduniamo, non rimettiamo assieme questa leadership nuova, non otteniamo niente. Se volete, è un sogno, perché ci vuol tempo, però, ripeto, c'è anche poi una spesa limitata, insomma, per l'Unione Europea, voglio dire, io facevo un po', tristemente, con un incrociatore si fanno sei università, insomma, più o meno, ecco, bene, e quindi costa più il battugliamento che l'università. L'ultima domanda, professore, concludiamo questa intervista e continuiamo a parlare di Africa, perché lei ha avuto modo di dire che può diventare, potrebbe diventare, il centro del mondo. Quindi, è possibile, è da considerarsi un progetto a lungo termine o un'utopia? No, no, è un progetto, attenzione, il centro del mondo lo diventa, dobbiamo decidere se sarà il centro dello sviluppo o della tragedia del mondo, eh? Perché, siccome arriva presto due miliardi di abitanti, siccome è l'unica grande area del mondo in crescita demografica ancora molto forte, il centro del mondo lo diviene, in ogni caso sta a noi vedere se sarà terra di conflitto o terra in cui aiuta in qualche modo una nuova globalizzazione, no? più ordinata e più giusta. Però, ripeto, qual è? La grande contraddizione è che è una pianta che ha bisogno di vent'anni per crescere. La politica di oggi ragiona in ore o in giorni, ecco, e quindi è, ma, questa è la contraddizione vera. e secondo lei, mi aggiungo anche se avevamo detto l'ultima domanda, la visita del Papa di cui parlavamo può dare un'accelerata a tutto questo? Abbiamo visto da altri viaggi che comunque la presenza del Pontefice ha favorito i processi di pace. va in punti di tensione molto forti che tra l'altro sono caratterizzati dalla presenza delle nuove materie rare, no? delle nuove materie prime che caratterizzano e che caratterizzano già oggi il futuro dell'economia e che stanno creando delle nuove tensioni e quindi problemi dei rapporti Congo-Ruand, problemi dei rapporti di tensioni e divisioni in Sud Sudan sono direi esemplari della della gravità delle divisioni dell'Africa. Grazie a voi. Grazie a lei.